In un mondo di investitori semplici, c'è un uomo che ha deciso di fare marchette. Un uomo coraggioso, che ha deciso di dare tutto se stesso per un semplice link affiliato. E anche oggi, lui, da solo, andrà a promuovere un altro broker. XTB E dopo questa stupenda introduzione, bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo è il risparmio. E bentornati in un nuovo video. Come presentato un attimino in maniera un po' quasi epica nella intro di questo video, oggi vado a parlare un attimo della collaborazione che ho iniziato di recente assieme a XTB, un broker. Ovviamente Mr. Marketman è sempre qui, ma in questo caso si tratta di una collaborazione costruttiva a lungo termine, per cui ci tengo un attimino a precisare alcune cose prima di cominciare col video. Ovviamente, se questi video sono di tuo gradimento, mi raccomando, lascia un pollice in su per sostenere me e questo canale e anche per farmi capire che questi contenuti ti piacciono. Inoltre, ti ricordo che se sei nuovo sul canale, puoi sempre iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Qui sotto ovviamente XTB, link in descrizione. Perché ho cominciato a collaborare con XTB e per quale motivo sto facendo questo video introduttivo? Prima di tutto voglio spiegare anche perché mi sono orientato a fare questa collaborazione, avendo già due link affiliati, uno è quello di eToro e l'altro è quello di 3212 e soprattutto perché anche il broker XTB è conosciuto prevalentemente per essere un broker CFD ma è qui che scatta la molla che mi ha fatto cambiare un po' la situazione. Prima di iniziare, ovviamente, volevo fare vedere un attimino un paio di slide che mi sono state appunto inviate e che comunque sono disponibili anche sul sito di XTB per fare capire da dove è partita tutta questa situazione, per quale motivo secondo me si tratta di una collaborazione che può essere proficua non solo da me per quanto riguarda appunto una persona che va a collaborare con l'azienda ma anche per chi volesse andare a utilizzare questa piattaforma come investitore. Esatto, parlo di investitore non di trader CFD perché le novità sono importanti per quanto riguarda XTB che da questo anno andrà a offrire anche azioni di TF reali e non solo più CFD e questo è il motivo principale che mi ha fatto cambiare un attimino ottica rispetto a XTB in realtà avevo già adocchiato il broker qualche tempo fa ovviamente l'avevo scartato perché io non faccio trading non uso CFD ma uso appunto prevalentemente azionario etf puri allora prima di andare a vedere quelli motivi che mi hanno portato a questa decisione e poi ad analizzare la piattaforma andiamo subito a vedere queste due comunicazioni che sono di carattere diciamo pubblico per andare a vedere per quale motivo sono andato a optare per questa piattaforma la prima cosa che andiamo a vedere è proprio questa questa comunicazione che è stata poi riportata anche sul sito di XTB che dice che XTB è tra i primi 5 broker al mondo per cui si tratta comunque di un broker altamente certificato con delle regolamentazioni piuttosto importanti e vi posso assicurare che quando è cominciata la trattativa diciamo per questa collaborazione la quantità di cose che ho dovuto firmare di regole a cui devo sottostare proprio per evitare di andare a portare le persone a credere che questo sia una specie di promozione un invito ad investire sono molto restrittive e la serietà che ho trovato nell'inizio di questa collaborazione è veramente spropositata questo è una cosa a cui intengo particolarmente perché come vedete io pur pubblicizzando i link in descrizione cerco di di mio personalmente non andare mai a pressare troppo le persone andare a iscriversi sui link affiliati proprio perché potrebbe essere interpretato come un invito ad investire e anche in questo caso dico che c'è un link affiliato qui sotto in descrizione però non mi vedrete mai andare a pressare con iscrivetevi iscrivetevi perché diciamo è un po' contro la legge allora top 5 broker all'inizio di febbraio di quest'anno il gruppo XTB ha pubblicato questi risultati finanziari preliminari per il 2020 e ci sono dei record molto importanti di ricavi di profitti una delle priorità di XTB è di concentrarsi sulle crescenti richieste dei clienti per cui favorendo la migliore offerta di investimento e qui subentra anche il fatto della parte di investing che andrà a debuttare a breve diciamo sul mercato in cui si possono andare a offrire anche l'acquisto di sottostanti reali siano essi ETF o azioni pure una cosa molto importante qui che va a parlare un po' degli account attivi in questo momento XTB ovviamente è in questo momento prevalentemente un broker CFD ma in alcune nazioni fra cui ad esempio la Francia si possono già utilizzare i sottostanti reali comunque account attivi sono come potete vedere qui 72k attivi nel precedente quarter in più 29k per cui l'incremento è stato più del doppio e lo possiamo vedere anche qui un più 135% rispetto al quarto dell'anno precedente per cui in un anno il numero di iscritti è aumentato nel 135% questo perché ovviamente chi va a utilizzare questo broker molto probabilmente va a percepire quell'aura di sicurezza che molti broker non tendono a dare e anche la modalità in cui viene pubblicizzato diciamo il loro sito internet è molto ma molto come posso dire non è eccessivamente pressante ma è molto sintetica non ci sono delle enormi fuffe che vanno girando sul sito internet e questo è una delle altre cose che mi è piaciuto non si espongono molto con pubblicità opprimente e oppressiva questo significa che ovviamente tendono molto a istituzionalizzarsi come broker rispetto ai investitori a chi vuole utilizzare la piattaforma un'altra cosa molto interessante invece sono questi indicatori di performance di XTB che appunto si possono andare anche a trovare sullo sito internet un profitto netto per quanto riguarda il 2020 di quasi 90 milioni di euro con un ricavo operativo di 178 milioni di euro con una crescita molto molto importante come si può vedere anche qui risultante anti-onere finanziari verso il 2019 c'è stato quasi un più 700% e per quanto riguarda il ricavo operativo quasi un più 234% per quanto riguarda il profitto netto quasi un più 600% sono un più 597.5% per cui delle cifre molto ma molto importanti e molto interessanti rispetto al 2019 si può vedere anche qui che l'azienda è cresciuta di un più 118,5% con un più 206% di nuovi clienti per cui numeri impressionanti e questi numeri che mi hanno stati già presentati in passato mi hanno anche fatto capire quanto sia questa azienda solida e sicura proprio per la aurea come dicevo prima di sicurezza che mette nei confronti degli investitori anche una certa serietà che in alcuni broker che ho recensito in passato si può trovare ma a volte è un po' fittizia un po' di facciata in questo caso come ho detto all'inizio vi posso assicurare che sono veramente persone molto serie e molto puntiose nella scelta delle persone appunto che vogliono andare che vogliono che vadano a collaborare con loro come dicevo all'inizio l'azienda è ancora in Italia è presente solo come cfd e si può vedere anche qui quali sono i mercati quali sono gli strumenti disponibili il numero la leva massima lo sped minimo e tutte le informazioni che sono interessanti per chi ama fare trading cfd e ovviamente se tu sei una persona che ama fare trading in cfd puoi continuare a farlo con xtb se vuoi iscriverti a questa piattaforma ma sono andato un attimino sul sito francese che poi successivamente ovviamente sarà anche presente in italiano quando questo progetto sarà attivato anche in Italia per andare a vedere un attimino quali sono le prerogative dell'investitore che vuole andare a utilizzare xtb per l'investimento a lungo termine per cui qui ho aperto un attimo il numero delle azioni che saranno sicuramente presenti anche sul mercato italiano sono 2514 azioni totale abbiamo Germania Belgio La Limarca Spagna Finlandia Francia Italia Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito sia Lime che quello normale Svizzera Svezia Repubblica c'è che Stati Uniti ovviamente xtb è a sede nel Regno Unito prevalentemente il contatto è quello lì per me e ovviamente l'offerta sul Regno Unito è leggermente più ampia non abbiamo solo appunto azioni sottostanti ma abbiamo anche degli etf che sono qui e sono 219 e qui poi si può trovare la lista di tutti gli etf che possono essere andati a tradare allora in questo caso a differenza di altri broker che utilizzo non c'è la possibilità al momento di fare azioni frazionate ma c'è un investimento minimo che è di 100 euro per tutto 100 euro per gli etf così come 100 euro per azione la cosa interessantissima è che tutte le operazioni fatti in etf e in azioni reali saranno prive di qualsiasi costo per cui le commissioni sono 0 questa è una cosa molto ma molto importante ovviamente ci sono delle commissioni per i grossi investimenti e da qualche parte ci sarà scritto comunque lo posso dire almeno per quello che è la versione francese qualunque investimento che è al di sopra dei 100.000 euro in totale sulla parte che cede 100.000 euro ci sarà una commissione dello 0,2% però mi pare di capire che chi è un investitore diciamo come me non andrà molto probabilmente a investire 100.000 euro tutti in una volta in un prodotto e questi 100.000 euro sono su base annuale per cui se uno va a investire 100.000 euro in un prodotto nell'arco di un anno dalla prima operazione fatta su quel prodotto ovviamente entro quell'anno andrà a pagare uno 0,2% in più ma ovviamente come ho detto all'inizio non è per tutti per lo che non è per me la piattaforma è molto intuitiva molto semplice si possono andare a aprire i trading direttamente questo ovviamente è in CFD perché ovviamente in Italia come ho detto non è ancora disponibile si possono andare a aprire delle operazioni sia attraverso il menu sulla sinistra ma anche direttamente dal grafico dalle candele facendo un click destro si può aprire un nuovo ordine si possono attivare delle notifiche di prezzo si possono personalizzare i grafici le sessione tutti i livelli che si possono andare ad attivare per qualsiasi tipo di prodotto abbiamo le valute gli indici le commodities le criptovalute gli ETF e gli stocks in questo caso come dicevo prima CFD ovviamente più avanti quando saranno attivati gli ETF e le azioni reali questo sarà possibile anche sotto forma di asset reali ovviamente non vado a fare un tutorial adesso della piattaforma perché come ho detto precedentemente io sono un investitore che fa solo esclusivamente investing a lungo termine per cui CFD non li tratto però nel momento in cui andrà a fare la valutazione della piattaforma dal punto di vista del tutorial reale su quelle che saranno le operazioni mie reali andrò anche a spiegare quello che è un attimino la operatività anche in termini di CFD per chi volesse fare pratica con la piattaforma l'iscrizione alla piattaforma è gratuita ed esiste la possibilità di utilizzare un conto demo per 30 giorni con 100.000 euro di valore disponibile da utilizzare successivamente dopo 30 giorni questo conto demo sparisce si può attivare il conto reale oppure se scade si può riattivare il conto demo con la stessa email alla scadenza diciamo del periodo di prova questo proprio perché alcune linee guida di XTB dicono che non vanno a premere assolutamente sulla creazione del conto reale perché l'azienda non vuole appunto pressare nessuno e non vuole invitare nessuno ad investire questo è un altro aspetto che mi ha fatto optare per la collaborazione con XTB bene siamo arrivati alla fine anche di questo video e ci ho tenuto a fare questo video di presentazione particolarmente asettico nel quale non mi sono voluto diciamo esporre molto sulla presentazione di questo broker perché come ho detto in passato non cerco di non andare mai a creare un invito all'investimento ognuno è libero di fare quello che vuole con i propri soldi ma la responsabilità di dire alle persone vai a investire o iscrivite questa piattaforma è molto ma molto pesante e io non voglio averla ovviamente ho detto che è un link affiliato non vi sto invitando ad iscrivervi però se voleste iscrivervi il link sta qua sotto prima di proseguire voglio ricordare che come sempre mi trovate ogni martedì e ogni venerdì con un video nuovo le live di giovedì ritorneranno a breve per il momento sono un attimino sospese e sono presenti anche su su instagram io underscore risparmio e sul mio blog www.risparmioinvesto.com bene anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao